La Lega di Matteo Salvini è il primo partito in Italia con il 34,3% dei voti. Crolla il Movimento 5 Stelle che si ferma al 17,1%. Il Partito Democratico alle spalle del Carroccio con il 22,7%. Forza Italia conquista l'8,8% dei voti. Fratelli d'Italia il 6,5%. Cambia di poco lo scenario nella circoscrizione nord-orientale che comprende il Veneto. Anche qui explua della Lega con il 41%. Partito Democratico 23,8%. Movimento 5 Stelle 10,3%. Forza Italia 5,8%. Fratelli d'Italia 5,7%. Guardando poi al dato regionale, il Carroccio ottiene il 49,9% delle preferenze. PD al 18,9%. Movimento 5 Stelle 8,9%. Fratelli d'Italia 6,7%. Forza Italia 6%. 6, gli euro parlamentari della circoscrizione nord-est che la Lega porterà a Strasburgo. 4, il Partito Democratico 2, 5 Stelle. Le 1 a testa per Forza Italia e Fratelli d'Italia. Andando nel dettaglio, nella Lega, Matteo Salvini conquista 550.000 preferenze. Mara Bizzotto 94.720. Gian Antonio Dare 43.397. Paolo Borchia 37.342. Alessandra Basso 25.283. Elena Lizzi 25.252. Se il leader Leghisa rinuncerà al suo posto pronto a sedere in Europa, Marco Dreosto 23.158 voti. Tra i democratici, l'ex ministro Carlo Calenda ottiene oltre 275.000 voti. Elisabetta Gualmini 77.177 e Paolo De Castro 52.087. Alessandra Moretti con 51.043 preferenze. Marco Zulle e Sabrina Pignedoli rispettivamente con 15.960 voti e 13.685 sono gli esponenti 5 stelle pronti a fare le valigie per Strasburgo. Fratelli d'Italia porterà all'Europarlamento Sergio Berlato con 19.400 preferenze. Discorso diverso per Forza Italia che alla luce dell'accordo con il sul Tiroler Volkspartei non vedrà nessun esponente seduto nell'emiciclo europeo dove invece entrerà Herbert Dorfman che ha ottenuto 100.000 voti.